Un animo tormentato A volte, quando rifletto col senno di poi sulle cose del passato, mi succede di pensare «Ah, ecco perché. Ora capisco. E allora mi biasimo per non aver afferrato il senso di un evento e per essersi arrivato troppo tardi, anche se oramai non c'è più modo di cambiare il corso delle cose. A pensarci adesso, per quanto nell'ultimo periodo il comportamento del nostro Akutagawa non fosse di certo usuale, allora non immaginavo nemmeno in sogno quanto fossero estreme le sue intenzioni, e non esistono parole adatte da pronunciare nei confronti di un amico scomparso al quale forse avrai potuto dare un incoraggiamento maggiore. In fondo eravamo legati da un sentimento molto profondo, anche se forse eravamo entrambi convinti di aver trovato l'uno nell'altro un ottimo e valido antagonista. L'ultima volta che ci siamo incontrati deve essere stato a marzo, quando lui venne ad Osaka per una conferenza presso la sede della Kaizosha. Nell'ultimo paio di anni ci eravamo gradualmente allontanati l'uno dall'altro. Non certo per un distacco affettivo, ma semplicemente perché io risiedo nel Kansai e quindi non avevamo molte occasioni di vederci, senza contare che la nostra corrispondenza era ridotta ai minimi termini, data la poca voglia di scrivere. Ad ogni modo, la sera della conferenza si fermò assieme a Sato a casa mia e un paio di giorni dopo si uni di nuovo a me e a Sato, in compagnia delle nostre rispettive mogli, per andare a vedere uno spettacolo di burattini al teatro Bentanzà. Quella sera, quando Sato e la moglie andarono via, volle fermarsi ancora una notte in albergo a Osaka. «Non andartene, prendi anche tu una stanza, così potremo fare due chiacchiere prima di andare a dormire. Che ne dici?» Mi propose, con una nota di malinconia, cercando di trattenermi. Non che trasparisse chissà quale affetto nei miei confronti, ma il suo comportamento sentimentale e socievole era un fatto più unico che raro, provenendo da una persona che di solito faceva sfoggio di un atteggiamento molto riservato. Continuò a parlare per tutta la notte, toccando persino diversi argomenti sulla sua vita privata, la letteratura, gli amici, la sua gioventù nell'uscita maci di Tokyo e la famiglia. «È una grande sfortuna per me essere nato debole», mi disse a un certo punto. E ancora con le lacrime agli occhi, aggiunse, «sono diventato mentalmente masochista, e il mio unico desiderio è che qualcuno come te, senpai, infierisse sui miei punti deboli. Quanto sono terribili la debolezza mentale e la mancanza di autocontrollo. Ne sono sempre stato convinto. Eppure, in quell'occasione, mentre discutevamo animatamente riguardo al mio saggio Joe Tsukuroku, mi sentii spinto a stemperare le mie reazioni, chissà come mai. Ad ogni modo, lui riuscì a trattenermi anche il giorno successivo, contento perché aveva ricevuto un invito dalla moglie di Nezu e mi aveva chiesto di accompagnarlo in una sala da ballo. Venne apposta da me per abbottonarmi la camicia dello smoking che avevo deciso di indossare in segno di rispetto verso i coni Ginezu. Fu un gesto indubbiamente gentile, forse più consono a un amante. E parlando di gentilezza e cortesia, c'è anche dell'altro. Poco dopo il suo rientro a Tokyo, mi spedì una bella edizione in due volumi dell'Improvvisatore, un libro che desideravo da tempo. Qualche giorno prima lo avevo cercato in un negozio di libri usati, a Kobe, ma mi era stato detto che era stato già venduto. Senza quasi pensarsi gli avevo detto «Farai di tutto per avere quel libro, sia o no la prima edizione». E lui se ne era ricordato e sicuramente con una certa riluttanza se ne era privato per darlo a me. Va qui sottolineato che a Kutagava, a parte quelli di cui era autore, non regalava mai i libri appartenenti alla sua biblioteca personale. Pertanto mi stupì doppiamente nel vedermi recapitare quei due preziosi volumi. Un'altra volta invece mi fece dono di una traduzione in inglese della Colomba di Merimè. Anche in quel caso doveva avermi sentito dire che non avevo mai letto quel romanzo. Mi inviò anche una raccolta di testi in francese sul Buddha indiano. Al libro era legato un bigliettino che diceva «Pensavo di regalarti un volume con le acqueforti di Goya, esposto da Maruzen, ma costava troppo e alla fine ho optato per questo libro. Naturalmente nutrivo una sincera gratitudine nei confronti di quella gentilezza, ma devo confessare che forse a causa della mia tenace ostinazione non mi andava poi così genio il fatto di vedermi recapitare un regalo nel pieno della nostra disputa letteraria. Per giunta un regalo che, come se non bastasse, era qualcosa di totalmente estemporaneo. Proprio per questo motivo, in preda al rancore e pur non essendo dell'umore consono alla scrittura, quella notte avevo rivangato la discussione riguardo a Joseph Kuroku. A pensare bene, ad Akutagawa non importava niente dei nostri alterchi e battibecchi. Solo quando è morto, purtroppo, ho capito che mi mancava come amico. In precedenza la mia mente contorta non aveva saputo afferrare che egli mi aveva donato quegli oggetti così da lasciarmi un suo ricordo, come se avesse preparato tutto con largo anticipo. C'è un motivo per cui oggi non avrà il coraggio di trovarmi al cospetto del suo spirito. I miei vergognosi e continui fraintendimenti nei suoi confronti. Tuttavia, di recente, volendo forse trovare una giustificazione, e in base ad alcune mie timide intuizioni, ho pensato che in fondo lui volesse crearli apposta, quei fraintendimenti. Apparentemente, credo di non avere difetti. Sono sveglio, saggio, intelligente e capace di profonda amicizia. Eppure, non posso fare a meno di pensare che se mi fossi impegnato di più, forse tutto questo non sarebbe successo. Sì, a pensarci bene, sono proprio un animo tormentato.